Si chiamano Kyla Bingham e Ellie Bingham, pensate che sono due gemelle letteralmente uguali, sono completamente identiche, ripeto di nuovo, e sarebbero state accusate dall'Ateneo di avere barato, di avere breffato tra virgolette per andare a superare quelli che sono stati gli esami di medicina di fine anno. Ma loro due sono stati vincitrici nei confronti dell'Ateneo, andando a vincere una causa proprio da loro creata contro la Medical University del South Carolina, degli Stati Uniti d'America. Hanno avuto un maxi risarcimento equiparabile a circa un milione e mezzo di dollari. L'Ateneo ha dovuto spendere la pecunia, come anticamente dicevano i latini, per andare a riferire il danno subito dalle due ragazze, o meglio, dalle due gemelle in questione. Perché vittime totali, complete e reali di una diffamazione veramente, azzardo a dire, devastante, che ovviamente ha lasciato gli strascichi piuttosto forti nelle vite di entrambe le giovelle in questione. Pensate che addirittura entrambe avrebbero riscontrato dei danni di natura psicologica per tutto quello che hanno dovuto subire proprio nell'Ateneo e in questione del South Carolina. Da Alejandro, narratore italiano è tutto, fatemi sapere cosa ripensate, vicinanza alla due gemelle in questione.